Ma secondo te Fabrizio, poteva essere che un gruppo di italiani in giro per il mondo potesse stare quattro mesi senza caffè? Impossibile. Poi senza espresso non se ne parla. Per qualcuno addirittura non si può fare meno della moca. Abbiamo trovato una soluzione fantastica grazie a Inetec ed abbiamo una macchina per il caffè, che non è la classica macchina per il caffè espresso, ma addirittura un filtro per l'espresso, ma volendo il caffè, grazie a Inetec, diventa una moca. Ma il sapore è veramente, il profumo è veramente di moca, il profumo è veramente d'espresso, secondo la gente. Caravaggio è il nome del caffè, Caravaggio è la linea che Inetec ha scelto per questa macchina. La macchina lo assaggeremo, lo gusteremo durante tutto il nostro periodo, durante tutta la nostra spezzazione. Questa macchina sarà montata sulla nostra cucina.